Meno infortuni, sì, ma più incidenti mortali. È il duplice dato che emerge dalle analisi dell'INAI sul numero di morti bianche in Veneto, 79 nel 2009, 82 l'anno scorso, il 3,8% in più. Nel veneziano, dove gli incidenti, anche quelli mortali, sono invece in calo da alcuni anni e dove le stime del 2010 confermerebbero questa tendenza, la morte è avvenuta nei giorni scorsi di Cristiano Coci, in bianchino di Ceggia, e di Claudio Bedin, idraulico di Mira, riaccende i timori. Anche perché, secondo il direttore regionale dell'INAIL, le morti sul lavoro sono legate anche ai ritmi molto più frenetici imposti oggi dal mercato. Vale a dire che a fronte di una ripresa economica e di un concomitante stallo nell'occupazione, aumentano le ore di lavoro di chi è occupato, con i conseguenti rischi per la salute e l'incolumità personale. C'è poi un'altra questione sollevata dalla CGL. Quanto è legato, infatti, il calo degli infortuni alla diminuzione di occupati, cioè al numero di licenziamenti e di casse integrazioni registrate negli ultimi anni? Domande alle quali si cercherà di dare una risposta martedì prossimo, al centro cardinale urbani di Zellarino, dove si trerà il convegno, promosso da CGL e Cisley Wheel, Safeti First, la sicurezza prima di tutto.